Come mai i teatri sono vuoti? Solo perché il pubblico non ci va. La colpa è tutta dello Stato. Perché non si istituisce il teatro dell'obbligo? Se ognuno sarà costretto ad andare a teatro, le cose cambieranno immediatamente. Perché credete che abbiano istituito la scuola dell'obbligo? Nessuno scolaro andrebbe a scuola se non fosse costretto ad andarci. Per il teatro, anche se non è facile, forse si potrebbe senza troppe difficoltà fare lo stesso. Con la buona volontà e col senso del dovere si ottiene tutto. Non è forse vero che anche il teatro è una scuola? Punto interrogativo. Si potrebbe istituire il teatro dell'obbligo già a cominciare da bambini. Logicamente il repertorio di un teatro per bambini sarebbe costituito esclusivamente di favole come Hansel & Gretel, Il lupo e le sette biancanevi. Cento scuole in ogni grande città. Mille ragazzi al giorno in ogni scuola. Fa in totale centomila ragazzi. Centomila ragazzi tutti i giorni mattina a scuola, pomeriggio a teatro. Ingresso per singolo bambino cinquanta fanning. Ovviamente a spese dello Stato. Tanto come dire cento teatri da mille posti. Quindi 500 marchi per teatro fa cinquantamila marchi per cento teatri. Pensate per quanti attori si creerebbero così delle occasioni di lavoro. Istituito a livello regionale, il teatro dell'obbligo costituirebbe un motivo di incremento per l'intera vita economica. Non è davvero la stessa cosa dire Ci vado stasera a teatro. Oppure Oggi devo andare a teatro. Con l'obbligo del teatro ogni singolo cittadino rinuncia spontaneamente a tutti gli altri stupidi divertimenti serali come i birilli, i tarocchi, le discussioni di politica in birreria, gli appuntamenti per non parlare di certi insulsi giochi di società tipo Attenti all'uomo nero, Sarto prestami tua moglie, eccetera, eccetera che servono solo a perdere tempo. Il cittadino sa che andare a teatro è un suo dovere. Non è più necessario che scelga lo spettacolo tale o tal'altro. Non ha più dubbi del tipo Ci vado o non ci vado stasera a vedermi in Tristano e Sotta? No. Ci deve andare per forza perché è suo dovere. È costretto ad andare a teatro. 365 volte l'anno che il teatro gli faccia schifo o no. Anche ad uno scolaro fa schifo andare a scuola ma ci va volentieri perché è suo dovere. Obbligo. Solo con la costrizione oggi si può costringere il pubblico ad andare a teatro. Decenni di buone parole sono serviti a ben poco. Le offerte più allettanti quali platea riscaldata oppure durante l'intervallo è permesso fumare all'aperto oppure per studenti e militari dal generale in giù metà prezzo. Tutte queste facilitazioni non sono bastate a riempire teatri. La pubblicità che per un grande teatro assorbe annualmente centinaia di marchi nel teatro dell'obbligo viene del tutto abolita. Lo stesso vale per i prezzi dei biglietti. I posti non sono più suddivisi in base alle differenze di classe ma a seconda delle infermità e degli acciacchi degli spettatori. Dalla prima alla quinta fila di platea sordastri e miopi. Dalla sesta alla decima fila di platea ipocondriaci e nevrastenici. Decima, quindicesima fila di platea dermopatici e depressi. Tutti i posti di balconate di galleria sono messi a disposizione degli asmatici e dei gottosi. In una città come Berlino tolti i lattanti e i bambini sotto gli otto anni i malati in stato di degenza e vegliardi ci sarebbero così ogni giorno circa 2 milioni di spettatori teatrali obbligatori cifra che supera di gran lunga l'attuale cifra di spettatori volontari. La stessa esperienza negativa si era già avuta del resto con i pompieri volontari finché dopo parecchio tempo si è capito che andare avanti senza pompieri obbligatori è impossibile. Ed allora, se questo vale per i pompieri perché non dovrebbe valere per il teatro? Oggigiorno teatro e pompieri sono più che mai intimamente collegati. Nella mia lunga pratica scenica dietro le quinte non ho mai visto uno spettacolo teatrale senza pompiere. Nel caso diventassi operante la proposta della UFTO Universale Frequenza Teatrale Obbligatoria costringendo così come si è accennato sopra 2 milioni di persone ad andare quotidianamente a teatro in una città come Berlino dovrebbero esserci a disposizione 20 teatri di 100.000 posti oppure 40 teatri di 50.000 posti oppure 160 teatri di 12.500 posti oppure 640 teatri di 3.125 posti oppure 2 milioni di teatri da un posto. Quale fantastica atmosfera si venga poi a creare in una sala gremita diciamo di 50.000 spettatori ogni attore può dirlo. soltanto con simili grandiosi strumenti di potere è possibile rimettere in piedi i locali vuoti non certo con i biglietti gratuiti no l'unico sistema è l'obbligo e il potere di obbligare il cittadino ce l'ha solo lo Stato. e il potere di obbligare il cittadino